Maglio Patriarca, autore del libro Dizionario del Montoriese, che verrà presentato sabato a Montorio nel Chiostro degli Zoccolanti. Maglio, quest'opera arriva dopo 60 anni di lavoro e di ricerca? Sì, e questo è l'utilizzo, in una maniera piuttosto azzardata, di un mio hobby. Io a 10 anni incominciai a raccogliere le parole montorghese e le ho continuate per tutta la vita. Però è successo che dopo 10-15 anni di raccolta, incominciate ad avere un materiale che a mio avviso poteva essere qualcosa di buono. Incominciai a pubblicare il libretto, ecco, precisamente questo qua, che sono delle poesie che io ho scritto per poter salvare alcuni quadretti di una vita paesana. E con questo incominciai ad avere i primi problemi, serghi. Come si fa a scrivere il montorghese? Io ci ho provato. Più andavo indietro nel tempo e più trovavo delle somiglianze. E le somiglianze maggiori le ho trovato nel greco e niente meno nell'etrusco. Sindaco di Montori, Alessandro Di Giambattista, l'amministrazione ha appoggiato da subito questo dizionario del montoriese? Non potevamo fare a meno perché è un momento importante della nostra cittadina. Perché il nostro dialetto è conosciutissimo per le sue peculiarità in tutta la regione Abruzzo. Voglio uscire dall'ambito provinciale. Ovviamente sono particolarmente felice che l'amico Maglio sia riuscito a fare questa opera titanica, oserei definirla. Partimmo già qualche anno fa quando ero assessore al comune di Montorio, non ancora sindaco. Fu presentata una prima opera di Maglio, Biografia di una lingua, ricordo con particolare piacere quel momento. Adesso sembrava che non si facesse, così si può dire, ad arrivare a questo risultato. Maniglio ci è arrivato, noi siamo stati orgogliosi. Maglio, lei considera il dialetto una lingua? Per forza, perché il dialetto è una lingua subordinata ad un'altra lingua matrice.